chi di noi non ha mai avuto a che fare con un opportunista siamo circondati dalle capiedi sempre pronti ad inchinarsi al cospetto del più potente i più lesti a salire sul carro dei vincitori gente che ammorba l'aria che respiriamo anche con la sola presenza quelli che raccolgono gli avanzi che conoscono sempre qualcuno quelli che sorpassano dove non si può che saltano la fila pur sapendo che non si dovrebbe i portaborse nell'animo e gente che ci farebbe arrabbiare se non fosse che preferiamo riderne io sono bianco sono nero e sono quello che c'è guardi che qui non si può stare il posto spettava a me sono falso sono vero sono senza un perché può controllare spettava a me si è avanzata qualcosa per me e yes man yes come mi vuole cerco il tuo proprio periente di me e yes man sì signore servo vostro dico su chi crede lo stai e lo farò ho cominciato che nessuno si occupava di me in mezzo ad ogni processione lo raffaccio e la che attento a come gira il vento ad ogni niente di che e soprattutto a se rimane qualche che cosa per me che cosa per me e yes man yes come mi vuole cerco il tuo proprio periente di me e yes man sì signore servo vostro dico su chi crede lo stai e lo farò se mi domandaste come che puoi la cronaca non scrive di me yes man non vi suoni strana la risposta che do dire che dire ma dire no che posso dire se non di sì se non di sì e yes man yes come mi vuole cerco il tuo proprio periente di me e yes man sì signore servo vostro dico su chi crede lo stai e lo farò e yes man 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 sì signore servo vostro dico su chi crede lo stai e lo farò e lo farò allora grazie 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 a tutti.